Un Rebus che non si riesce a risolvere. Non è enigmistica, ma la sede del luogo dove far disputare la partita fra il Krasrepen e la Triestina. Facciamo ordine. Il club di Monropino desidera fortemente poter giocare la gara nel proprio campo come da calendario, ma l'ostacolo è dato dalla capienza della struttura e da motivazione di ordine pubblico, come annunciato dalla Questura. Ci si trasferisce allora a Rocco? La Triestina sarebbe contenta, il Krasrepen accetterebbe il compromesso, ma la Federcalcio si oppone. Giocare a Rocco sarebbe favorire la squadra rosso alla bardata e pertanto compromettere la regolarità del campionato, visto che si tratta anche di una sfida salvezza fra le due compagini. E quindi? In questi giorni il Krasrepen, in quanto squadra di casa, si è adoperata per ricercare un campo da gioco, sondando il terreno con numerose realtà friulane. Il risultato è stato il no del Pordenone, quello del Palmanova, e ci si rispetta la stessa risposta da Sacile, Gradisca e Lignano. Il tutto ha incontrato la comprensibile rabbia del presidente del Krasrepen, Goran Kozman, non tanto per le risposte degli altri campi, che in ogni caso non erano considerati come la soluzione desiderata, quanto per il vetto posto al campo di Monrupino. Il Krasrepen vuole giocare in casa propria, che siano messi a disposizione 600 tagliandi per una squadra e 600 tagliandi per l'altra piuttosto, ma il club carsolino ci tiene come a calcare il proprio terreno di gioco. Ma così, stando alla questura, non sa da fare. Punte a capo dunque, la sede della ventunesima giornata fra Krasrepen e Triestina non è ancora definita. In piedi allo stato attuale restano due ipotesi. La prima consiste nel convincere la Federcalcio attraverso una comunicazione congiunta di Krasrepen e Triestina, nella quale si comunica che le due squadre sono disponibili a disputare la partita a Rocco, in particolare i carsolini, che come detto accetterebbero il compromesso. La seconda ipotesi, sessurata nelle ultime ore, è quella di un match sia a Monrupino, ma a porte chiuse, opzione che, però, difficilmente, verrebbe digerita da ambo gli ambienti.